Buongiorno gentili telespettatori, benvenuti alla prima edizione quotidiana del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca del tragico incidente stradale di ieri avvenuto lungo la salaria all'altezza della località di Quinto Decimo di Acquasanta. Per causa in corso di accertamento un 64enne Elio Filipponi, residente a Caselle di Maltignano, ha perso il controllo della sua moto ed ha urtato il muro di contenimento che si trova a bordo della strada. L'impatto con l'asfalto purtroppo gli è stato fatale. Immediato l'arrivo sul posto dei soccorritori che hanno constatato il decesso dell'uomo. Il sinistro è avvenuto in un tratto di statale considerato molto pericoloso per la presenza di una serie continua di curve. Poco distante sul pianoro di Colle San Marco ad Ascoli Piceno uno schianto ha coinvolto tre motociclisti. Anche qui le motivazioni di quanto avvenuto sono al vaglio delle forze dell'ordine. A subire le conseguenze più gravi una donna che dopo essere stata stabilizzata è stata elitrasportata all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in via San Francesco a Sirolo a causa di un ramo di grosse dimensioni caduto sopra un'autovettura parcheggiata in un piazzale. La squadra dei pompieri di Osimo, coadiuvata da un autogru proveniente dalla centrale di Ancona, ha provveduto a rimuovere il ramo e successivamente a mettere in sicurezza l'area. Non si segnalano persone coinvolte sul posto, anche la polizia locale. Nel nostro servizio di apertura ci occupiamo dei disagi che continuano a creare la chiusura del Passo del Furlo e non solo per i turisti e i visitatori ma anche per le attività presenti nella zona Lino Balestra. La riserva naturale del Furlo è un patrimonio naturalistico non solo della provincia di Pesaro o Marchigiano, ma italiano. Migliaia e migliaia di visitatori amanti della natura vi fanno tappa ogni anno provenienti da mezza Europa per ammirare questo affascinante canyon delle Marche. Innumerevoli le specie animali che si possono ammirare, aquile reali, falchi pellegrini, aironi, cenerini, ma non sarà difficile avvistare anche donno, le faine e tassi. Il modo migliore per immergersi in questo paradiso florofaunistico è lasciare l'auto e godersi i percorsi che offre. Ma da oltre un anno questo luogo ricco di storia con le sue gallerie scavate dai romani nel 76 d.C., con l'Abbazia di San Vincenzo dell'anno 1000 e la spettacolare diga non è più fruibile né a piedi né in mountain bike. Un masso pericolante del peso di oltre 10 tonnellate incombe sulla carreggiata come una gigantesca spada di Damocle che ne ha decretato la chiusura della strada e conseguentemente creato non poche difficoltà alle tante attività commerciali della zona. Ad inizio marzo Enel, proprietaria dell'invaso, ha aperto il contiere per la rimozione dello sperone di roccia pericolante dopo che i comuni di Acqualagna e Fermignano e la Regione Marche hanno fatto forti pressioni sull'ente con la prospettiva di riaprire la strada e quindi rendere tutto come prima già da questa primavera. Ma siamo a maggio inoltrato e la strada è ancora chiusa. Qui passa sempre tantissima gente, molto felice anche di passare per quello che sono le nature, la bellezza della natura, della cultura anche storica e di tutto quello che ne consegue facendo anche trekking a piedi e facendo insomma le classiche passeggiate qui intorno a tutto questo vendindio che si vede e in questi ultimi diciamo anno e mezzo, questi ultimi due anni naturalmente è inciso molto il fatto della chiusura. Vuoi per una fruibilità per quello che riguarda con le biciclette a piedi perché comunque sia la bellezza è indescrivibile facendola sotto quel punto di vista. Noi ci auguriamo naturalmente che si possa aprire al più presto, speriamo prima dell'estate forte, quindi speriamo che per giugno la riapertura ci sia. Comunque ogni stagione passano turisti da tutta Italia, nell'ultimo periodo abbiamo molti veneti che vengono giù, la parte anche comunque Lombarda, abbiamo anche gli italiani che con questo fatto del covid girano di più l'Italia, quindi sarebbe un peccato non valorizzarla. Oltretutto abbiamo anche dei sentieri bellissimi che si svolgono su tutto i vari circondario e quindi ci sono anelli, quindi non poterla sfruttare sinceramente è una pecca, quindi ci auguriamo che comunque l'Enel si possa muovere facendo anche, dico io, delle illuminazioni lungo il furlo che non sarebbe male per una passeggiata notturna e che valorizzerebbe ancora di più quello che è la bellezza naturale storica del furlo. L'augurio è che la strada riapri al più presto perché comunque una fetta di passaggio essendo chiusa sia moto che biciclette cambiano percorso, quindi ci auguriamo che apra più presto per avere sempre più gente, insomma, che adesso viene esclusa. Il sindaco, il comune, insomma, ci ha detto che per maggio sarebbero finiti i lavori, questo è quello che ci hanno detto, che ci hanno riferito. Lieto fine per una villeggiante del Fermano dispersa nel bosco soprastante il santuario della Madonna dell'Ambro a Montefortino. Ieri pomeriggio, dopo il pranzo domenicale, la signora ha deciso di fare una passeggiata imboccando il sentiero che dall'Ambro sale verso il Monte Priora e non vedendola rientrare, i familiari hanno dato l'allarme verso le 19. Dopo tre ore, la donna, grazie anche ad una copertura telefonica scarsa ma sufficiente, è stata ritrovata dai soccorritori, leggermente disidratata e con un principio di ipotermia. Nei due weekend del 28 e 29 maggio dell'11 e 12 giugno prossimi, l'iniziativa Cantieri Aperti segnerà il ritorno fisico in alcuni spazi della cultura della regione Marche, grazie all'apertura al pubblico di cinque importanti siti di restauro nelle aree colpite dal sisma del 2016, la chiesa e il convento di Santa Agostina Pievetorina, la collegiata di Santa Maria e Palazzo di Priori di Visso, il centro storico di Monte San Martino, Palazzo Saladini di Rovetini di Ascoli Piceno e Castel di Luca d'Acqua Santa Terme. Mario Larocca ha seguito per noi la conferenza stampa di presentazione. Presentato oggi a Rascoli Piceno il progetto Opera, la ricostruzione passa anche attraverso la cultura. Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale della ricostruzione, Guido Castelli. Sì, la ricostruzione è qualcosa di molto complesso, lo sappiamo, ma che si compone almeno di due grandi direttrici che dobbiamo sempre tenere insieme. La prima è la ricostruzione fisica, la seconda invece è la ricostruzione e il mantenimento di quelli che sono i valori identitari della comunità che è stata colpita dal sisma. Questo progetto Opera ha il merito di mettere insieme questi due aspetti, curando ovvero la possibilità di conoscere, testare e condividere i gradi di avanzamento degli interventi di restauro, quindi di ricostruzione, dei beni culturali che sono stati in qualche modo coinvolti dal sisma. È un'opera, è un progetto particolarmente utile e necessario perché non possiamo mai dimenticare che noi non dobbiamo solo ricostruire case, ma dobbiamo farlo presto e bene. Dobbiamo anche cercare di mantenere unita la comunità. Il fatto di condividere il recupero, la riacquisizione di quelle tavole, di quei quadri, di quelle opere davanti alle quali abbiamo pregato, davanti alle quali abbiamo sofferto, che hanno rappresentato lo sfondo della nostra vita è sicuramente un elemento fondamentale di cui dobbiamo riconoscere il merito a chi l'Europa in particolare ha finanziato il progetto, a quanti sindaci in particolare di Visto e Pievitorina hanno permesso questa realizzazione e a tutto il mondo di scienziati e di cultori della materia, a partire dalla sua intendenza, che ha voluto intestarsi questo progetto. Cinque luoghi di interesse culturale, cinque luoghi tra le province di Ascoli, Piceno e Macerata, cantieri aperti, ne abbiamo parlato con il dottor Paolo Iannelli, sorprendentente speciale. Un'idea sicuramente anche carina, piacevole per chi poi vuole vedere lo sviluppo di questa ricostruzione. Sì, certamente, anzi direi carina da più punti di vista, non solo per vedere lo sviluppo ma come dico sempre io, per vivere questi monumenti anche feriti, perché i monumenti e la cultura hanno questo di bello, non c'è un punto in cui sono più belli di un altro, sono magari momenti in cui si possono vivere diversamente o con limitazioni, ma vanno vissuti e bisogna pretendere di viverli anche se feriti o anche durante la fase di ricostruzione, proprio perché sono fasi lunghe, non sono temporanee, quindi non si può privare la collettività di un loro bene, anche in virtù del fatto che va ricostruito, ma resta sempre un bene che deve essere vissuto anche in quelle condizioni. Hanno cinque i punti di interesse, ma quanti ce ne sono ancora da ricostruire? Purtroppo ce ne sono tanti, ce ne sono tanti e dobbiamo avere la forza di riuscire quasi a fare rete e a metterli a disposizione, un po' non solo questi 4-5, ma un po' non dico tutti, ma almeno quelli più significativi, quelli in cui la collettività si riconosce di più, bisogna sforzarsi di rendere la collettività partecipe, sempre e comunque. Ma cos'è in realtà il progetto Opera e perché la scelta di questi cinque siti culturali tra Ascoli e Macerata? Ce ne parla Maurizio Bilò. Il progetto Opera è un progetto che nasce nel 2019, è un progetto europeo finanziato all'Europa e permette di far conoscere a livello europeo, ma soprattutto alla gente che ha vissuto anche nel cratere il terribile evento del terremoto, come si sta evolvendo il processo di restauro all'interno di alcuni siti, in che modalità e soprattutto quello che poi avverrà nel futuro, a breve termine. A partire da oggi, secondo un crono programma stabilito d'intesa dagli uffici centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabiniere e della Guardia di Finanza, i poliziotti delle volanti della Questura di Ancona impegnati nei servizi di controllo del territorio avranno a disposizione la pistola ad impulsi elettrici taser che si aggiunge agli strumenti già in dotazione. Si tratta di uno strumento di larga diffusione, soprattutto negli Stati Uniti, che blocca i muscoli della persona colpita. Un mezzo di difesa e non di offesa, l'ha definito il sottosegretario agli interni Nicola Molteni da utilizzare solo in caso di extrema razio. Nell'ambito di Gustaporto, sabato, organizzato a Civito Nova Marche, il convegno, il porto intelligente. Manolita Scocco. L'hanno chiamata a Gorà di condivisione strategica con autorità, università, operatori economici ed associazioni e per essere stato l'evento di apertura dell'edizione 2022 di Gustaporto, la due giorni che ha aperto ufficialmente la stagione del Grand Tour delle Marche, per Civita Nova è stata davvero un'occasione importante per condividere esperienze e opportunità di un territorio in grado di fare grandi cose a partire da uno dei suoi elementi identitari, il mare e il porto. Tra i presenti anche l'assessore regionale Mirco Carloni, che tra le deleghe ha anche quella alla pesca marittima. Io auspico che con i prossimi fondi FEAMP per la pesca si possa far evolvere il settore della pesca, ma in generale della portualità, creare portualità intelligenti come questa di Civita Nova, cerchiamo insomma di fare in modo che il valore aggiunto sul prodotto ittico rimanga nelle tasche di chi lo lavora, di chi lo pesca, evitando di sbarcare un prodotto e di portarlo altrove a trasformarlo dove c'è valore aggiunto e dove la filiera arricchisce qualcun altro. A moderare l'incontro, Gioacchino Bonsignore del TG5, che così sintetizza la mattinata. È stato un livello molto alto perché si parla di progetti straordinari e che mettono in gioco non solo le marche e il porto di Civita Nova, ma l'intero sistema paese, considerando che l'Italia ha migliaia di chilometri di coste. Il tema della plastica è pazzesco perché sappiamo quanta ce n'è nei mari di tutto il mondo e oggi a Civita Nova Marche abbiamo ascoltato la possibilità di nuove tecnologie, nuovi progetti importanti per pulire il mare con un progetto che io non conoscevo, di voglio dire, marchigiano, con un partner che è una multinazionale italiana di cui siamo tutti fieri, che è Enel. Quindi direi che siamo sulla strada buona. Speriamo nei prossimi anni di vedere realizzato questo progetto perché sarebbe veramente un sogno. E siamo allo sport, capriamo con il basket. È stata tutt'altro che una gara scontata, quella disputata dalla Carpegna Prosciutto ieri a Bologna, la prima nella serie dei quarti di finale playoff scudetto. Anzi, i biancorossi di coach Luca Banchi hanno accarezzato l'idea di un successo che sarebbe stato clamoroso contro la dominatrice della regular season, con la bomba di Sanford che aveva ridotto a tre i punti di vantaggio delle Vunere a 1,24 dalla sirena. Una schiacciata di Jaitè e di tiri liberi conclusivi hanno determinato l'82-76 finale ed a fare la differenza anche le sette palle perse in dieci minuti che non si possono regalare ad una formazione come la Virtus. Telecronaca stasera dalle 22 sul canale 13 di TVRS. Domani si replica sempre in Emilia. Intanto sono iniziati i playoff di Serie B con due successi per Ancona e Senigale che si sono imposti in trasferta rispettivamente a Raguse e a Bisceglie. Nei playoff invece domina Iesi contro Civitanova, addirittura 85-46, mentre blitz della Sutro Montegranaro che spugna sul filo di lana Cesena ed è un successo fondamentale sulla strada che conduce alla salvezza. Ora a break con il podismo e il grande successo di partecipazione alla Semran, cinquantesima edizione della Maratonina Elpidienza Sant'Elpidio a Mare. Mario Giannini. 310 agonisti ed oltre 1500 passeggiatori si sono presentati alla cinquantesima Maratonina Elpidiense e decima Semran a Sant'Elpidio a Mare per festeggiare i 50 anni di vita dell'Atletica Elpidiense Avisaito. Una bella giornata di sport con una temperatura estiva, con tante animazioni in ogni quartiere, colori e prodotti da gustare. Al colpo dello starter nella lunga fila multicolori si snoda e raggiunge il centro storico di Sant'Elpidio a Mare dove i costumi storici della contesa del Zecchio fanno bella mostra. Subito in testa i protagonisti attesi da Andrea Falesca a Zamponi, Stefano Massimi a Mohamed Aji che scavano subito un ampio margine su tutti. Tra le ragazze a farla da padrona Elena Casarotta della grottinitiva Recanati che corre costantemente in ottava posizione assoluta. Il percorso con sali scendi si snoda anche alla periferia ed in campagna percorre le mure del centro storico. Nello sprint finale è l'ascolano Stefano Massimi per i colori del Cusca Merino a prevalere su Andrea Falesca a Zamponi dell'Atletica Elpidiense. Terzo classificato l'Atletica del Marocco Mohamed Aji della società bolognese di Castenaso dopo un primo dalla coppia di testa. Quarto posto per l'Atletica di casa Michele Martufi per i colori di potenza vicena. Quinto Doriano Bussolotto sempre potenza vicena. Per il settore femminile della Casarotta conserva l'ottava posizione e precede di 4 primi e 30 secondi la seconda classificata dell'Atletica Civitanova Giuseppina Piccaluga. Poi nell'ordine giungono Nausica, Malaccari, Veronica Vallessi sempre dell'Atletica Civitanova e Michela Boniello per la Polisportiva Servigliano. Lunga poi la fila degli arrivi ed applausi per tutti i partecipanti che hanno contribuito al successo di questa giornata di sport. Come sempre vi ricordiamo che un ampio servizio andrà in onda giovedì alle ore 21.40 nella rubrica Starting Block. E non è stata una domenica felice nella pallavolo per la CBF Balducci e la Videx Grotta Zolina. Le maceratesi sono state battute 3-1 a Mondovì e dovranno ricorrere alla bella domenica in casa per conquistare la promozione in auno femminile. Andamento altalenante della gara ma i troppi errori dell'arancionere nei momenti chiave dell'incontro hanno fatto la differenza sino al 25-22 nel quarto set con l'allungo decisivo delle piemontesi. Ben 5 le giocatrici in doppia cifra tra le padrone di casa. Sorpresa per certi aspetti al Palagrotta dove nel primo match per l'accesso in a due maschile i catanesi dell'AC Castello si sono imposti con il massimo scarto ed ora i ragazzi di Ortenzi sono davvero con le spalle al muro. Forse è stata la grande pressione di un traguardo che sembra portata di mano ma sicuramente la Virex ha ciccato la partita e soprattutto in battute in attacco si sono avvertite le carenze più gravi. E vediamo ora le previsioni meteo per martedì 17 maggio. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì. È confermata la presenza di un'area di alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia. Guardate, queste linee rappresentano le isobre, cioè linee con pressione costante ebbene sul Mediterraneo se ne vedono poche. La pressione è livellata su valori alti e questa alta pressione impedisce l'arrivo delle perturbazioni quindi a parte qualche velatura di passaggio. Per il resto situazione bella e di conseguenza anche come precipitazioni ben poco da segnalare questo martedì non capiterà nulla di particolare, ripeto, cielo sereno poco nuvoloso. Il caldo però si farà sentire, quindi andiamo a vedere. Ci attendo un martedì, sì soleggiato, un minimo di variabilità ridosso delle zone montuose sull'Appennino Meridionale magari qualche breve equazione pomeridiano ma soprattutto temperature alte al centro-nord oltre 30 gradi all'ombra. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Calcio prima di chiudere perché mercoledì le gare di semifinale play-off del campionato di eccellenza alle 16.30 si affrontano Atletico Ascoli, Azzurra Colli con diretta sul nostro canale 13 mentre in serata Forza Empronese e Iesina. Domenica 29 maggio play-out con Porto Sant'Elpidio, Biagio Nazore ed il derby davvero fratricida, Urbania, Urbino. È tutto, grazie per l'accortesa attenzione. Appuntamento a stasera. Appuntamento a stasera.